Quest'oggi ci troviamo qui nella Doccoglio, più precisamente nel comune di Capriva del Friuli, presso l'azienda agricola Castello di Spessa. Un territorio vocato prevalentemente a vini bianchi molto aromatici, dove la gran parte dei vigneti sono presenti in collina, dove la tematica dell'oidio è sicuramente un problema molto sentito. Confrontandomi con il tecnico aziendale Ivan, l'azienda cercava un prodotto antioidico efficace al coltempo con un profilo ecotosicologico favorevole. Per questo noi abbiamo consigliato Sonata. Sonata è un prodotto antioidico di natura biologica dal principio attivo Bacillus pumilus, il CEPU QST 2808. L'ultimo prodotto è nato dalla ricerca Bayer, è un prodotto innovativo perché? Perché ha una triplicazione, ha un'attività diretta sul fungo patogeno, quindi blocca la formazione della prete cellulare, ha un'attività trofica spaziale perché forma delle barriere fisiche sui tessuti vegetali. La terza azione di Sonata è quella di stimolare la produzione di acido niasmonico, un noto induttore di resistenza che aumenta le difese della pianta. Sonata è un prodotto che viene applicato a 5 litri ettaro, è un prodotto liquido emiscibile con i principali prodotti utilizzabili in agricoltura biologica e convenzionale. Le fasi di applicazioni sono molteplici perché è un prodotto molto flessibile, utilizzabile sia nelle prime fasi e sia nelle ultime fasi, perché è un'attività slegata dalle temperature, quindi performa molto bene sia a temperature basse e non provoca alcun tipo di fitotossicità a temperature alte. Sicuramente un plus del prodotto è la sua selettività rispetto agli insetti utili. Sempre di più oggi dobbiamo preservare l'entimo fauna all'interno del nostro vigneto, come ad esempio i fitoseidi o i prombi. Un vantaggio importante di Sonata è sicuramente la non interferenza nei processi di vinificazione, perché non porta alcun residuo che possa alterare o modificare i profili aromatici dei vini e la fermentazione dei mosti.